Loro no Entro Aspetta, dagli l'altro, dagli l'altro e poi quella la vado a prendere io Mario prenditi questa e poi quella la prendiamo Ora a fine primo tempo la prendiamo Davide, aspettiamo Non so, sei a zero No, no, no No, no, no Cambio palla, cambio palla I miei a su Per cos'è? Ah, cosa sono? Sono soldi Non so, non so, non so, non so Non so, non so Giuseppe, piegliene uno Aiutalo, non so, non so Aiuto 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 Vieni, 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 compa Non lo so Questa è la sua esperienza La sua esperienza sei solo? sei solo? guarda qua hai visto? sei solo come si te era un 3K? no, ancora no ah già sei stanco come facevo? l'avevo già vista vai 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 fermo fermo guarda guarda tira tira maria 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 ha spiegato questo video che fa? l'azzara no supercambio del stomaco da balotelli da supercambio un rino no? è concenso si vabbè balotelli ci dice con 3 riprese contate per tutta la partita a conto vuol dire che tutta la partita si avrebbe conto chi ha giocato la prossima? una partita più semplice la vedo tutti forti sono stai sottovalutando le altre compagini tutti forti sono il derby quando è? bravo però il derby è in linea dai ma chi crede? bravo Azzaro mi tiro la mano grazie grazie grazie